Musica Sono 230 i piccoli produttori di mele valtellinesi che beneficeranno dell'accordo chiuso dal gruppo BPS con la cooperativa agricola di riferimento, un aiuto alla filiera innovativo per il settore Sicurezza, industria, economia e problemi del territorio Guglielmo Zamboni è stato rieletto segretario generale della CGL di Sondrio e fa un'analisi della situazione in Valtellina e Valchiavenna La nuova Sondrio Calcio è sconfitta a Modena ma mister Fraschetti è soddisfatto per la prestazione Per i Biancazzurri prosegue la preparazione con l'amicchievoli di sabato col Morbegno Buonasera a tutti e benvenuti con l'informazione di Unica Sondrio Il gruppo BPS ha siglato un accordo innovativo per il settore di riferimento che sostiene le 230 aziende valtellinesi socie della cooperativa agricola Melavì Un supporto finanziario per rinforzare i progetti di filiera e l'economia del territorio Il gruppo Banca Popolare di Sondrio ha sostegno dei melicoltori valtellinesi L'iniziativa, collegata al raccolto realizzato nel 2022, si rivolge a 230 aziende valtellinesi di piccole dimensioni socie di Melavì Il finanziamento viene erogato da Factory, società del gruppo BPS, a valere sul magazzino della cooperativa Un accordo innovativo per il settore di riferimento che permette alle 230 aziende socie di incassare già dal mese di gennaio i crediti spettanti relativi alle mele conferite senza dover attendere, come solitamente avviene sul mercato, l'inizio della stagione successiva Allo stesso tempo, Melavì si potrà concentrare sull'attività di promozione e vendita delle mele e dei prodotti derivati L'operazione apporterà benefici alle aziende della filiera della Mela Valtellinese fornendo un supporto finanziario consistente in un momento congiunturale particolarmente delicato ma anche sostenendo i progetti di filiera e le economie del territorio L'accordo stipulato con Melavì è frutto di un'attività sinergica tra le strutture del gruppo bancario e quelle della cooperativa, commenta Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale di BPS Sono particolarmente soddisfatto nel vedere realizzato un progetto che coinvolge la filiera agricola fino alla grande distribuzione, valorizzando la cooperazione che fra l'altro promuove l'applicazione dei metodi di produzione integrata a vantaggio dell'ambiente e della qualità del prodotto È una vicinanza a tutti i conferenti che con passione continuano ad alimentare una tradizione che contraddistingue la Valtellina per la qualità del prodotto Una vera e propria rivoluzione dal punto di vista della remunerazione del prodotto dei soci da parte della cooperativa, commenta il presidente di Melavì, Bruno Dalle Coste senza dimenticare che avviene in un periodo particolarmente delicato per quanto riguarda l'andamento dei consumi a causa dell'inflazione Inoltre si tratta di una soluzione che risponde ad una reale necessità del nostro settore che consolida e riconosce il ruolo della Banca Popolare di Sondrio al fianco delle imprese del territorio E passa attraverso l'efficientamento della struttura per abbatterne i costi e la valorizzazione delle specialità il progetto di rilancio dell'ospedale Morelli indicato dal nuovo direttore Mario Melazzini che lo ha presentato ieri ai cittadini dell'Alta Valle Vediamo il servizio Valorizzare le specialità ma anche efficientare la struttura questi i due elementi indicati da Melazzini nuovo general manager del Morelli di Sondalo nell'incontro con i cittadini che arriva al termine di un mese di monitoraggio della situazione dell'ospedale Indicando i dati di attività del Morelli negli ultimi anni Melazzini ha voluto sottolineare come questa realtà ospedaliera sia pienamente operativa Nel 2021 c'erano 4.016 schede di dimensione ospedaliere che corrispondevano a una produzione di un certo tipo più di 20 milioni Nel 2022 diciamo le schede di dimensione ospedaliere che erano a mezz'ora 5.116 con una produzione di ulteriori trepedioni quindi c'è stata una crescita eccetera come pure per prestazioni ambulatoriali se voi pensate il territorio diciamo proprio per quanto riguarda Sondoro e questo grande intorno a Sondoro nel 2021 deve essere e chiaramente deve essere fatto il più possibile dal punto di vista con quanto abbiamo a disposizione al momento attuale per poter garantire quello che la domanda di Sondoro che è la mia progettualità sarà un cronoprogramma sarà un programma con un cronoprogramma quindi delle tempistiche in attuazione sicuramente come ho detto ci sono delle cose che le facciamo subito che ci sono e dicendo l'arrivo dell'organizzazione subito è una responsabilità mia eccetera concentrarsi su quindi utilizzare diciamo il capitale umano che abbiamo a disposizione in un senso piuttosto che un altro questo e quello valorizzare quelle che sono le specificità piano piano diciamo con delle tempistiche ben precise con un'allocazione di risorse ben precise per poter sì garantire quelle risposte ma allo stesso tempo cercare nel limite del possibile la maggior sostenibilità possibile la CGL di Sondrio ha confermato Guglielmo Zamboni come segretario generale al congresso provinciale a Chiavenna sicurezza sul lavoro ma anche futuro sono i temi principali di cui si è parlato Guglielmo Zamboni è stato rieletto all'unanimità come segretario generale della CGL di Sondrio e parla subito delle sfide per il lavoro sul territorio le sfide per il lavoro sono tanti innanzitutto cominciare da partire dalla sicurezza che deve essere il faro illuminante per poi arrivare a una stabilità maggiore per garantire un futuro alle persone che decidono di intraprendere l'esperienza lavorativa e quindi un contrasto serio alla precarietà dopodiché occorre lavorare per creare le condizioni perché si crei come dice il nostro congresso davvero lavoro perché attraverso il lavoro poi ci può essere il futuro l'emancipazione sociale ed evitiamo anche la desertificazione di paesi importanti come sta succedendo nella nostra provincia perché abbiamo un grosso problema che è quello dell'invecchiamento e quindi occorre lavorare su quelle che sono le direttrici di sviluppo per noi è importante l'industria perché se ne parla troppo poco sui media ma l'industria è ancora l'ossatura portante dell'economia provinciale però è un'ossatura portante che necessita di infrastrutture migliori e non solo quelli materiali di cui va tanto di moda parlare ma ancora anche di quelli materiali perché siamo logisticamente poco competitivi rispetto a tutti gli altri territori perché siamo vicini al nord Europa ma abbiamo le montagne che ci impediscono di arrivarci in poco tempo e siamo lontani dal Milano siamo lontani dai punti della logistica nei quali si smistano le merci e quindi dobbiamo competere con un gap che sicuramente va a riverberare su quella che è la redditività delle nostre aziende appena rieletto nel congresso di Chiavenna Zamboni spiega anche perché iscriversi oggi al sindacato i cittadini hanno il diritto costituzionale sancito ben prima di quello di costituirsi in partito di costituirsi in organizzazione sindacale per tutelare il proprio interesse perché purtroppo il diritto al lavoro previsto e sancito dalla Costituzione non è un diritto garantito per tutti il diritto è un lavoro dignitoso lo vediamo in questi anni non è garantito per tutti il problema della precarietà deve essere contrastato e solo nelle lotte collettive nell'emancipazione collettiva può arrivare una risposta perché purtroppo in questi anni il troppo precariato lo sfruttamento attuato da molte aziende nei confronti in particolare dei giovani ma non solo ha abituato queste persone a pensare di potercela fare da soli e a ricercare le soluzioni individuali nelle soluzioni individuali non viene all'escatto di massa quello collettivo che ha consentito nelle generazioni precedenti un'emancipazione sociale quindi dobbiamo riportare la discussione a un riscatto collettivo che può venire solo dal mettersi assieme in un sindacato successo a Lanzada in Valmalenco per le iniziative proposte al centro sportivo Pradash le piste da sci e da pattinaggio illuminate fino alle 21.30 hanno raccolto il favore di turisti e valligiani sci di fondo pista di pattinaggio e pista baby fino a tarda sera anche quest'anno il centro sportivo Pradash di Lanzada in Valmalenco ha aumentato l'offerta delle proposte dedicata a valligiani e turisti nelle recenti vacanze invernali le attrazioni messe in campo dall'associazione Valmalenco Verticale hanno fatto il pienone anche grazie alla scelta di illuminare l'area e rendere accessibili le proposte anche dopo cena abbiamo avuto un buon afflusso di pubblico spiega Daniel Schenatti presidente di Valmalenco Verticale l'associazione che gestisce le attività sportive al centro Pradash ci ha premiato la scelta di differenziare le attività la pista di pattinaggio che da quest'anno è realizzata con una tecnologia innovativa è stata molto apprezzata per il fatto che il fondo è davvero di ghiaccio la pista baby con il tappetino e il bob permette ai principianti di avvicinarsi allo sci senza salire in quota evitando ulteriori esborsi che nel caso delle famiglie si fanno davvero sentire e infine la pista da fondo conclude Schenatti illuminata fino a tarda sera consente di praticare questo sport in una cornice in un'atmosfera davvero suggestiva anche grazie alle illuminazioni circostanti bilancio dunque più che positivo per l'attività del centro sportivo di Lanzada che durante le recenti festività natalizie ha garantito tante opportunità ai turisti che soggiornavano in tutta la Valmalenco per tutti gli altri invece il divertimento continua ogni giorno fino alle 21.30 sulle piste da bob e da fondo per l'impianto di pattinaggio l'apertura dopo cena è assicurata solo con un minimo di 10 persone e passiamo ora allo sport è finita con una sconfitta per 4 a 0 la sfida tra Nuova Sondrio Calcio e Modena ma mister Fabio Fraschetti è soddisfatto della prestazione dei suoi e ora i Biancazzurri torneranno in campo sabato per l'amichevole contro l'Olympic Morbenio un risultato che non conta ma la prestazione a dare soddisfazioni l'amichevole tra Nuova Sondrio Calcio e Modena è terminata 4 a 0 per gli Emiliani ma la sfida del Braglia è stata importantissima per mister Fabio Fraschetti che può così trarre buone conclusioni dalla trasferta con la formazione di Serie B quello che mi aspettavo chiaramente abbiamo affrontato una squadra migliore di noi però abbiamo tenuto botta bene abbiamo avuto anche l'occasione colpendo un palo sullo 0 a 0 di andare in vantaggio i ragazzi hanno fatto quello che le era concesso di fare con impegno abbiamo avuto qualche altra occasione abbiamo subito 4 gol un paio nel finale quando erano anche in campo un po' di ragazzi però ciò non toglie che le cose sono andate per come si sperava abbiamo messo dentro tanti minuti perché giocare 60-70 minuti con queste squadre qui equivale a 90 minuti abbondanti del campionato nostro quindi la splendida giornata per i ragazzi che ricorderanno sicuramente per lungo tempo e un ringraziamento al direttore che ci ha fatto questo regalo sul campo il muro valtellinese ha retto per più di un tempo concedendo solo un gol al diciottesimo con Duca e rimanendo in partita fino al 55esimo in realtà senza busto è capitano Lamia ma con l'esperto centrocampista Matteo Serotti i sondriesi sono anche andati vicini alla rete in avvio partita quindi al decimo della ripresa è arrivata la rete del raddoppio dei canarini con Dio che ha sfruttato tutta la sua velocità e la sua abilità per battere Rodriguez la nuova Sondria non si è resa anzi un minuto più tardi è stato Martinez a provare la conclusione trovando però attento Sekulin al 65esimo il Modena ha rotondato lo score sempre con Dio e a 5 minuti dalla fine è arrivata la tripletta dall'attaccante di casa che ha mandato i titoli di coda sul match oggi sono proseguiti gli allenamenti alla Castellina mentre sabato è previsto il test con l'Olympic Morbegno e passiamo ora alla viabilità chiusura totale al transito per la strada provinciale 10 dei Cech orientale che da Morbegno attraversa la costiera dei Cech fino alla Valmasino da lunedì 16 a venerdì 20 la strada sarà chiusa al chilometro 1 dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17 da lunedì a venerdì per la posa di reti e barriere Paramassi le vie alternative da e per il Fondovalle sono la provinciale verso la Valmasino o quella per Mello e questa era la nostra ultima notizia buon proseguimento con i programmi di Unica TV Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti